e mentre in italia si decide se tassare bitcoin al 42 per cento vedremo cosa succederà e oltre oceano invece lo si usa come sistema di consenso per quella che è la sfida elettorale ma aperta e chiusa parentesi in questo video che cosa vedremo vedremo come si sta muovendo bitcoin in questo momento e quali target aspettarci questa settimana quindi uno scenario bull o eventuale scenario bear vediamo come sta andando l'accumulo di etf e cerchiamo di andare a leggere un po tra le righe e vedremo anche come sta andando l'indice che abbiamo costruito su bitpanda visto che ormai siamo in chiusura mese vediamo come ha performato quindi allaccia le cinture e partiamo subito partiamo dal nostro bitcoin bitcoin vediamo è strutturato attualmente in questo modo come ho detto lunedì scorso ha rotto quest'area qui quella che era il nostro canale ribassista o bull flag se vogliamo quindi come avevo ipotizzato rimbalzo eventuale sparata quindi ci siamo adesso vedremo come si comporterà scenario 1 rimbalzo effettivamente sparata scenario 2 ritorno di nuovo all'interno di questo canale e ancora un po di lateralizzazione a ridosso di queste aree quindi aree importante a tenere in considerazione l'intervallo che va tra i 65 e i 70k bitcoin deve necessariamente rimanere sopra i 65 barra 66k per confermarci l'impulso positivo che ci ha portato ci ha proiettato dal bottom dei 55 più o meno k a livello attuale 2 deve cercare di rimanere sopra i 68k se rimane sopra i 68k è molto più probabile che si vada poi in esplorazione di quali target beh degli 80k 90k quello che è per me l'apice per questo 2024 di prezzo che potremmo raggiungere dopo questo che cosa farà stefano stefano probabilmente andrà a dampare parlo di bitcoin speculativi lo sottolineo io ho una parte di bitcoin che tengo long term ho fatto un video venerdì in cui parlavo proprio di questa cosa qui e questo video qui se te lo sei perso valla a guardare può anche cliccare qua sopra per andare a vederlo ho quindi una parte che tengo lì in holding e non vendo e poi invece una parte che vendo che è quella speculativa con cui gioco con quale obiettivo con quello di poter riaccumulare chiaramente poi a prezzi più bassi quindi cerco di vendere sostanzialmente come ho già fatto in queste aree per poi andare a riposizionarmi in aree più basse quindi speculare sul prezzo però ripeto questa è una parte solo di portafoglio non è tutto il mio portafoglio cripto né tantomeno tutto il mio portafoglio bitcoin scenario invece negativo abbiamo visto il positivo vediamo anche il negativo ritorno su quest'area quindi di nuovo rottura di basso dei 65k e di conseguenza nuovamente lateralizzazione tra i 55 barra 65k e di nuovo una tediosa e lunga rottura di scatole magari sotto sotto questo livello attualmente io propendo di più per uno scenario bull a meno che non ci sia qualche evento particolare qualche escalation nell'ambito della della guerra noi israele palestina e così via in questo caso si potrebbe avere invece una rottura decisa tornando probabilmente a questi livelli escalation significa che succede qualcosa di veramente grave non che stanno lì a giocarsi a lanciarsi una bombetta di qua una bombetta di là no quello sì magari nel breve ci fa vedere qualche roba del genere ma nel medio non ci va a dare chissà quale impatto quindi in caso di un escalation veramente importante allora sì il prezzo potrebbe finire lì ma bisogna vedere poi come si comporterebbe perché ricordo bitcoin è ancora molto giovane e quindi c'è da capire un attimo come procede a proposito qua intanto sono su bitpanda qua sotto ti lascio il link se ancora non ti sei registrato è un exchange che ci permette di acquistare criptovalute ma ci permette anche di acquistare azioni ci permette di acquistare etf ci permette di acquistare metalli ci permette di acquistare un sacco un sacco di cosa anche cripto indici che vedremo tra poco ed è sicuramente un sistema estremamente comodo per approcciarsi al mondo cripto perché alle prime armi ma in generale al mondo degli investimenti perché è un modo molto semplice tutto in un'unica app o piattaforma qui su desktop quindi su computer è relativamente semplice da utilizzare senza troppe cavolate c'è giusto il bottone acquista swap avendi niente di particolare appunto vediamo un attimo gli etf come si stanno comportando allora gli etf si stanno comportando ancora una volta bene vediamo dal 9 ottobre al 25 di ottobre tendenzialmente sono stati in accumulo sono stati lato blackrock un bell'accumulo di bitcoin lato fidelity idem e poi via via c'è stato un bell'accumulo vorrei evidenziare una cosa attualmente sono prodotti circa se non sbaglio 405 insomma intorno ai 400 btc questa è la produzione di btc giornalieri attuali corrisponde circa se moltiplichi per 68k siamo intorno ai 25 30 milioni facciamolo subito 405 per 68k che il prezzo attuale sono ben 27 milioni e 5 quindi 27,5 milioni vediamo quant'è l'accumulo però giornaliero ed è questo il dato importante da considerare quando si guarda gli etf non si stanno comprando stanno vendendo ma in quale quantità cioè stiamo parlando di 253 milioni comprati perché come puoi vedere qua questi sono milioni quindi sono 253 milioni significa 10 volte la quantità di prodotto giornaliero 555 371 e così via qua uno scarico di 79 192 188 400 quindi stiamo parlando in media di un fai 250 260 milioni in acquisto in entrata ogni giorno questo è il volume attuale quindi da un lato abbiamo 27.5 al prezzo attuale milioni di bitcoin di valore di controvalore in dollari prodotti quindi per giorno dall'altra una quindi questa è la disponibilità dall'altra la richiesta di 250 260 milioni quindi una richiesta abbiamo detto 10 volte superiore alla produzione ed è questo che dovrebbe farci riflettere sulla direzione che stiamo prendendo contiamo che un accumulo costante di questo tipo potrebbe portare anche a ridurre le quantità di disponibile sull'exchange perché è già successo e sta succedendo quindi bisogna valutare bene quello che sta succedendo per comprendere quelli che potrebbero essere dei target possibili per bitcoin non tanto solo lato prezzo ma proprio in termini di crescita qui stiamo parlando di un per 10 rispetto alla produzione attuale giornaliera quindi una richiesta giornaliera superiore di 10 volte in media rispetto alla produzione di quel bene lì di quell'asset in questo caso bitcoin riflettiamo bene su questa cosa qui cosa importante andiamoci a vedere anche velocemente il post halving come vediamo è stato molto lateralizzato questa fase questa fase qui per molti è semplicemente la partenza poi per una roba di questo tipo ripeto questa è l'area secondo me che colpiremo ora nel breve quindi appunto tra gli 80 e i 90k non penso andremo più in alto ma questa è una mia personale opinione se andiamo più in alto bene sono contento tanto il mio holding a vita di bitcoin che sta lì e continua a crescere qui gioco chiaramente col portafoglio speculativo se andiamo più in alto di così sono infelicissimo va bene io mi aspetto in realtà un'area di questo tipo magari poi un ritorno di nuovo a questi livelli o leggermente più in basso quindi fare un bello scarico se il 2025 si rivelerà effettivamente un anno di recessione per poi andare magari a fine 2025 sì a siglare un bel un bel botto e vediamo come sta rendendo come sta andando anche il nostro portafoglio su bitpanda adesso andrò a fare qualche modifica prima di tutto voglio vedere l'ultimo anno di bitcoin questo è l'ultimo anno puro di bitcoin siamo un più 93 per cento teniamo a mente questo dato anzi scriviamocelo qui per vedere se sta performando anche bene il nostro portafoglio invece basato sui cripto indici che ti mostro tra pochissimo andiamo nella home il portafoglio attualmente vale 370 dollari è stato abbastanza nella norma quindi ha fatto una crescita iniziale interessante per poi andare a sottigliarsi vediamolo magari ecco per poi andare a stagnare in quest'area qui ti mostro l'ultimo anno in realtà e questo grafico è fallato perché io qua ho depositato e dopo quel deposito lì è questo che poi bisognerebbe vedere solo che non me lo fa vedere molto ingrandito quindi limitiamoci ai 30 giorni vediamo nei 30 giorni che abbiamo oscillato tra un minimo di 365 e un massimo di 376 sarà 377 giù di lì presumo 300 eh sì 377 più o meno di media contando che siamo partiti da un 358 circa quindi c'è stata una crescita come suddiviso il portafoglio allora andiamolo subito a vedere abbiamo messo etf abbiamo messo cripto indici li vediamo tra poco piuttosto che comprare bitcoin ho comprato i cripto indici per vedere come performavano abbiamo preso materie prime abbiamo una parte in liquidità che genera interessi abbiamo delle cripto che erano degli avanzi che avevo sul conto e poi dei metalli preziosi in particolare oro e argento negli etf ci ho messo l'SP500 Emerging Markets e Developed World Stock cioè l'MSA World ora qui volevo fare una modifica damperò un 50% di questo e lo abbinerò al NASDAQ 100 perché perché il NASDAQ 100 è molto più spinto in ambito tech e un indice in ambito tech in questo caso sono le top 100 tech company che sono comunque la maggior parte di queste anche all'interno dell'SP500 hanno anche un peso di tutta rilevanza quindi andrò a dampare in metà di questo per portarlo in questo perché perché mi aspetto che i prossimi anni prossimi cinque anni saranno molto interessanti il lato tech lato sviluppo visto l'avvento della IBI sotto quello che succederà con l'elettrico penso che questo possa essere un buon punto su altri portafogli tipo quelli trade republic l'ho già cambiato quindi qua adesso andrò ad aggiungerlo chiudiamo via sta roba qui andiamo a vedere come ha performato il cripto indice rispetto bitcoin quest'anno bisogna avere un'idea cripto indici ho preso il bci 10 è un cripto indice che si auto ribilancia sia in termini quantitativi cioè di quale peso avere per ogni coin in portafoglio sia in termini invece di coin da avere in portafoglio questo qui è basato sulle top 10 cripto quindi non è un full btc ma ho voluto scegliere un prodotto che fosse distribuito tra le top 10 perché perché bitcoin ok sta dominando la scena bitcoin a mio avviso dominerà sempre la scena ma se le altcoin parte quella appunto che la famosa al season potrebbero performare molto bene e quindi l'intero indice dovrebbe l'intero portafoglio in questo caso cripto dovrebbe andare bene è un modo per diversificare all'interno del mondo cripto ma come vedi tra le top 10 quindi senza andare a riempirsi il portafoglio di shitcoin di ogni tipo è uno strumento veloce semplice comodo che fa praticamente tutto bitpanda vediamo un attimo l'annuale come è andato ecco qui ha sottoperformato in realtà siamo a un 80,44 per cento quindi attualmente ha sottoperformato il semplice holding di bitcoin quindi per ora non ha senso per noi questo indice qui però dobbiamo contare anche ovviamente la sovra performance dell'alt season quindi delle altcoin che porterebbero questo portafoglio probabilmente a sovra performare appunto quello di bitcoin quindi sta andando maluccio il cripto indice rispetto il semplice holding di bitcoin però è un esperimento che volevo fare quindi lo sto facendo vediamo un attimo anche nei cinque anni un orizzonte temporale più lungo ricordo questo portafoglio l'ho costruito e lo porterò qua in aggiornamento per orizzonti temporali lunghi quindi per almeno cinque anni qua abbiamo più 667 per cento su bitcoin negli ultimi cinque anni invece nel nostro cripto indice abbiamo negli ultimi cinque anni un 564 per cento quindi sta performando tendenzialmente peggio rispetto bitcoin e questo è da tenere in considerazione dobbiamo vederlo è una cosa sicuramente da notare perché potrebbe a questo punto valere di più la pena togliere questo e mettere in portafoglio bitcoin comunque valutiamo io per ora lo lascio correre voglio vedere come si comporta in al season poi cosa abbiamo ancora in portafoglio abbiamo 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 le materie prime che stanno andando abbastanza giù a parte quella agricoltura ma ci sta perché avevano sparato veramente pesante abbiamo poi i metalli oro e argento che sono to the moon costante quindi molto bene questa parte del portafoglio vediamo velocemente come era distribuito il portafoglio giusto da avere un'idea eccolo qua indiquità no abbiamo lasciato un 32 per cento tutto il resto è investito un 30 per cento etf cripto indici quindi un 17 per cento in cripto sostanzialmente materie prime un 10 per cento metalli un 10 per cento questo qui non c'entra nulla lascialo pure così quindi questa è la distribuzione del nostro portafoglio molto interessante adesso vado a fare un cambio quindi andare a prendere un paio di cosette per dare un po più di no boost a questo portafoglio ho intenzione di inserire che cosa abbiamo detto il nashtag 100 quindi vendo un 50 per cento sp500 e prendo nashtag 100 in modo da non andare a cambiare troppo questa esposizione qua questa percentuale poi però voglio andare a aggiungere qualcosina anche di micro strategi perché perché se mi aspetto che bitcoin possa fare 80 90 k probabilmente micro strategi sovraperformerà tendenzialmente micro strategi fa un per tre un per quattro di quello che fa bitcoin in termini azionari proprio per tutto il gioco a leva che fa michael e che vedremo poi in un video dedicato che ti porterò penso la prossima settimana qua sul canale quindi andiamo subito a farci la nostra operazione e poi direi di andare a concludere il video andiamo qui anzi portafoglio etf questo qua io voglio vendere il si portami tutto in euro cosa interessante qua su bitpanda si può come puoi vedere anche avere altre valute quindi tu puoi tenere anche altre valute se vuoi esporti a qualcos'altro tra l'euro tipo dollaro oppure il franco svizzero e così via puoi farlo senza alcun problema non so se però gli interessi li dia solo su euro e dollaro ora andiamo a scambiare facciamo un rapido conto che io voglio scambiare non c'è un tipo 50 per cento no allora facciamo il calcolo 34.63 diviso 2 sono 17.31 17,31 vi diamo l'ok vendi ora perfetto a questo punto andiamo ad acquistare il nostro nasdaq il nostro nasdaq e compriamo 17,31 ok avanti comprendo 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 compra voilà adesso andiamo a vedere il portafoglio abbiamo acquistato il nostro nasdaq si abbiamo fatto anche questo cambio qui e ora abbiamo sistemato adesso andrò ad aggiornarlo nel nostro portafoglio andiamo anche ad acquistare micro strategy eccolo qua acquista di micro strategy pensavo di prendere inizialmente un 5 dollari portafoglio euro 5 dollari avanti allora ok si benissimo confermo confermo ok e anche questo è acquistato quindi attualmente abbiamo anche inserito delle azioni cioè quelle di micro strategy vediamo il portafoglio come si è configurato adesso abbiamo un 1,45 per cento in azioni un 30 per cento rimasto etf cripto indici 17,32 materie prime 10 metalli 9,28 e poi un 31 per cento di liquidità quindi ora lo lascerei così e vedrei come va a performare poi deciderò se andare a chiudere o meno il cripto indice per andare solo su bitcoin all'interno di questo portafoglio questa è un pochino una panoramica del mercato attuale come sta andando una piccola analisi di quello che sta succedendo in queste fasi tra l'altro ci sono tantissime notizie su whale che stanno accumulando ci sono anche dei sentito dire riguardo il ban di bitcoin in Cina molti dicono che potrebbe essere tolto, revocato a breve quindi vediamo poi effettivamente che cosa potrebbe succedere perché significherebbe molto probabilmente un afflusso ingente di capitali insomma tantissime notizie, tantissime cose, tantissimo rumore là fuori però noi rimaniamo concentrati, focalizzati su quello che è il valore di bitcoin che cos'è bitcoin, come funziona ma soprattutto dobbiamo rimanere concentrati su ciò che succede in questo caso al lato istituzionale istituzionali, ricordiamoci attualmente gli istituzionali stanno comprando 10 volte ogni giorno la produzione appunto giornaliera di bitcoin e questo qualcosa dovrà pur significare ti lascio qua sotto il link di Bitpanda se ancora non hai provato abbiamo anche ritoccato un pochino il portafoglio insieme giusto per farti vedere, no sì, oltre alla classica analisi ma anche come muoversi e come mi muovo, come vado a ritoccare questi portafogli didattici che stiamo costruendo passo passo qui sul canale in modo da mostrare come mi muovo, in base a che cosa e come effettivamente si possa anche replicare con portafogli non eccessivamente grossi chiaramente andando a ridimensionare ok il portafoglio ma anche a ridimensionare le aspettative di guadagno in base a quello che è appunto il proprio portafoglio ti ringrazio per essere stato qui con me iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto qualsiasi domanda, qualsiasi cosa qua sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video